Un weekend ricco di eventi segnati nei cartelloni estivi dei comuni del territorio. A Brolo oggi comincerà la caccia al tesoro a cura dell'Associazione Aria Frisca. Sabato si lascia spazio all'incontenibile comicità del duo siciliano I Soldi Spicci, aspettando l'uscita del film Un mondo sotto social. I giovani palermitani intratterranno il loro pubblico dalle ore 21.30 al palatenda di Brolo. Per la serata di domenica, nella medesima location, si sorriderà con le commedie La Prassi di Saverio Castanotto e Civitò di Impretura di Nino Martoglio. Continuano anche gli eventi dell'estate stefanese. Stasera in Piazza Matrice un tributo a Renato Zero, mentre domani, sabato 20 agosto, a Villa Italia, si viaggerà con la fantasia attraverso la narrazione animata del racconto Lisa la Giraffa Azzurra e a seguire sarà attivo un laboratorio creativo pittorico. Il comune di Ficarra ha in programma una triade di appuntamenti imperdibili. Stasera è la volta di Bel Danzando, premio Città di Ficarra e borsa di studio Carmelo Mangano al Convento dei Centoarchi. Domani sera Marilina Giacuinta presenterà la sua ultima opera dal titolo Scienza d'Amore al Palazzo Milio alle ore 19.30. Domenica ci sarà la sagra musica e pizza a cura del gruppo Giovani Matini in Piazza San Francesco. Grande interesse dopo i due anni di stop verso i festeggiamenti in onore di San Calogero a San Salvatore di Fitalia che cominciano proprio oggi con il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli dai paesi dei Nebrodi. Ore e ore di cammino tra fatica e devozione per raggiungere la meta, il santuario del Santo dei Miracoli. Sabato 20 agosto è il giorno della festa di San Calogero Eremita con la messa sorelle del mattino e le processioni per le vie principali del paese. Concluderà i festeggiamenti il concerto del cantautore Angelo Branduardi nel suo The It's Tour. Il 21 agosto si celebra la festa paesana durante la quale si assisterà alla Santa Messa della sera e poi ad una lunga processione per le vie del paesino dove il Santo compirà i suoi viaggi. Domani ci saranno le nostre telecamere di AM Notizie per seguire in diretta i festeggiamenti di San Calogero in onda sul canale 82 dalle ore 11.